Ricerca ma soprattutto innovazione per Alto Trevigiano Servizi, società che gestisce il servizio idrico integrato per 53 comuni tra le province di Treviso, Belluno e Vicenza. Protagonista italiano di uno dei quattro progetti finanziati da Horizon 2020, uno strumento della Commissione Europea con un obiettivo chiaro, creare un impatto significativo diretto sulla vita dei cittadini. Nasce così Smart Plant, attività rivolta al recupero di materia rinnovabile come cellulosa, biopolimeri, fertilizzanti e acqua, con la successiva lavorazione di questi materiali fino alla produzione di beni di consumo recuperati. È nell'impianto di Carbonera, in provincia di Treviso, che prenderà il via all'adeguamento dei depuratori. Una nuova tecnologia che permette ad ATS l'ossi risparmi sotto l'aspetto energetico ed economico e nel contempo migliora la qualità dell'acqua immessa dopo il trattamento nel territorio. Un altro aspetto non secondario è il fatto che noi consideriamo il reflow come un rifiuto e in realtà lo trasformiamo in beni di consumo importanti come cellulosa e bioplastiche. Il progetto Smart Plant, coordinato dall'Università di Verona, coinvolge ben 25 realtà europee grazie anche alla Regione del Veneto. Regione Veneto, ATS e non dimentichiamolo anche l'Università di Verona, in un progetto assolutamente virtuoso per quanto riguarda la materia ambientale. Integriamo con tecnologie capaci di recuperare risorse come ad esempio biopolimeri a fosforo, queste risorse estratte vengono inviate alle industrie chimiche che fa prodotti di consumo. Abbiamo ottenuto quasi un milione di euro di fondi strutturali dall'Europa per finanziare direttamente non lo studio ma la pratica del nostro progetto, quindi eccellenza, pratica, lavoro, investimento sul territorio per una cosa non irreale ma già reale. Acqua bene comune, ma soprattutto risorsa. Due, le fasi di sviluppo, la prima per un'acqua più pulita, la seconda per una nuova nascita dai nostri scarti, nasce così la plastica dai nostri reflui. Andremo a potenziare un comparto che già esiste, che fa un trattamento via nitrito, che vuol dire che riusciamo a rimuovere in maniera migliore l'azoto e il fosforo. Il fosforo ad esempio è la causa dell'etrofizzazione, cioè della crescita delle aghe lungo le coste, quindi andare a fare questo trattamento vuol dire dare un beneficio ambientale molto più importante. Il secondo progetto invece prevede la sperimentazione in fase pilota con l'Università di Verona di quella che è la produzione di bioplastiche dai nostri scarti, quindi il fango non è più visto come uno scarto che impatta a livello economico e ambientale ma possiamo produrre bioplastiche anziché dal petrolio dai nostri rifiuti.